Un incontro, una storia. Vedo che la valenza formativa di questo incontro sia per i ragazzi enorme. Loro sono sempre immersi in una società fatta di incontri, ma spesso con incontri non reali. Con l'invito a scrivere o a realizzare un video raccontando la storia di qualcuno sono spinti ad entrare nel rapporto umano che farà scoprire non solo il valore dell'altro, ma soprattutto farà, secondo me, conoscere loro stessi a se stessi, perché potranno in questo modo riflettere sulla propria storia personale vista allo specchio negli occhi dell'altro. Grazie a tutti.